Il tuo posto rende ste persone avide, aride, fiori morti su una lapide, anime al giro, dentro al traffico su cellulare, come se non ci fosse meglio da fare, dentro me un mare, scrivisci... Cari amici, ciao a tutti, volevo presentare il libro Bardo Arconte, la trappola dell'evoluzione, che finalmente è finito, finalmente è pronto, molti di voi l'hanno già ricevuto, perché nel momento in cui l'ho finito di scrivere l'ho già inviato a tutte le persone che si erano prenotate ed erano veramente tantissime. Vorrei parlare un po' di questo libro, di che cosa tratta e, insomma, fare una presentazione, quantomeno dare un'idea di quello che andremo a trattare. Tengo gli occhi bassi perché leggo, naturalmente, quello che devo dire, quello che riguarda questo libro. Naturalmente ho scritto questo libro sulla scia del tunnel di luce alla trappola della reincarnazione, visto tutto quello che è accaduto dal momento in cui ho pubblicato quel libro lì. Insomma, si è scatenata una forza incredibile, proprio scatenata forse da quel libro lì, che mi ha portato a fare la conoscenza di tantissimi ricercatori, a fare numerose interviste, a fare tantissime ricerche con altre persone. Abbiamo fatto, ho aperto, ho collaborato, ho fatto parte di numerosi gruppi di ricerca nelle ipnosi, nei registri acascici, nelle domande alle guide e altri tipi di rilevazioni olistiche esoteriche e tutto ciò ha portato tantissime informazioni. Dopodiché mi hanno continuato a scrivere durante questo periodo innumerevoli persone, mi hanno scritto veramente innumerevoli persone, moltissime persone mi hanno scritto la loro testimonianza rispetto alla reincarnazione, al karma, alla predazione umana e a tutto ciò che insomma fa parte di questo scenario di pianeta, zoo, prigione in cui ci troviamo, nonostante ovviamente, potete osservarne un angolo, questo mondo sia veramente bellissimo, per certi può essere così bello che non si rendono neppure conto che sia una prigione. Può essere quello che vuoi, fondamentalmente può essere quello che vuoi, e questo è quello che dice anche l'alieno in Star Trek nella puntata della trappola del tunnel di luce in cui dice alla tipa, gli dice questo può essere, Matrix può essere quello che tu vuoi ed è la verità, Matrix può essere quello che tu vuoi l'importante è che non capisci sia che sei Matrix sia che esiste un modo di poterne uscire e il modo di poterne uscire appunto è durante la reincarnazione pare essere questo l'unico momento possibile in cui effettivamente lo spirito disincarnato possa prendere la decisione di andarsi quando? Quando è consapevole di queste cose quando ha fatto un lavoro su di sé atto a questo scopo quando ha deciso veramente di volersene andare quando ha superato dentro di sé tutti quei limiti tutti quegli attaccamenti, quelle dipendenze che lo legano in qualche modo al pianeta Terra alla realtà terrena e sulla quale i controllori della reincarnazione fanno leva per tenerti qui pertanto va fatto un certo tipo di lavoro una certa tipo di consapevolezza e nonostante il fatto che la vita dentro Matrix possa essere veramente ciò che si vuole può essere ciò che si vuole secondo il proprio grado di comprensione della realtà stessa e il fatto è che noi siamo qua prigionieri di un sistema energivaro, cannibale che si nutre della nostra partecipazione della nostra energia della nostra adorazione della nostra sofferenza ma in maniera più generale proprio della nostra partecipazione del fatto che siamo qui inconsapevolmente del fatto di essere inconsapevoli del fatto di essere all'interno di un programma contenitivo separativo, artificiale nel momento in cui si incominciano a definire questi aspetti questi concetti allora incominciamo anche a renderci conto allora che cosa sarebbe opportuno fare ecco e ci sono solamente un paio di cose che sono opportune fare correggere la situazione laddove è possibile per esempio noi abbiamo a che fare con un karma che spiegato com'è non spiega nulla la nostra concezione di karma non spiega come mai ci siano così tanti sofferenti in questo mondo non spiega come mai il mondo sia così com'è perché noi per spiegare il mondo così com'è secondo il karma dovremmo avere una vecchia generazione di criminali tutti quelli che stanno soffrendo adesso vuol dire che hanno fatto qualcosa di veramente brutto la vita passata e non mi sembra che sia realmente andata così ma potremmo facilmente dimostrarlo con la matematica questo non c'è veramente bisogno di divagare troppo con le parole anche perché la popolazione mondiale continua a crescere da dove arrivano tutti questi peccatori da dove arrivano tutti questi colpevoli cosa vengono portati qui da altri posti allora che cosa è questo un pianeta prigione non è un pianeta scuola un pianeta scuola così come ci hanno voluto far credere le concezioni esoteriche spirituali tradizionali come può essere concepito se tu non ti ricordi l'anno passato ti viene resettata la memoria di anno in anno come puoi dare un esame se non ti ricordi quello che cavolo hai fatto quello che cavolo hai studiato è semplicemente assurda la concezione che abbiamo è andata bene fino adesso perché probabilmente le persone non si facevano tutte queste domande o comunque probabilmente proprio il livello cognitivo il livello di comprensione il livello di tante cose non era come quello attuale al giorno d'oggi è più naturale farsi determinate domande e cercare determinate risposte perché le risposte di prima non valgono più semplicemente non valgono più e allora che cosa abbiamo fatto? abbiamo cominciato a fare delle ricerche io ho cominciato a scrivere di queste cose a interessarmi di queste cose perché ho visto che c'erano tante ricerche su questa cosa qua e allora ho detto bene le metto insieme e le faccio sapere la più gente possibile perché non mi pareva che in Italia in molti fossero al corrente di tutto questo e infatti ho scatenato un autentico terremoto del quale sono molto soddisfatto perché insomma ho sorpreso un po' tutti ma mi sembra molto strano perché comunque non sono mica non sono mica stato il primo a dire queste cose certo sono il primo a dire in una certa maniera sono il primo a non tollerare l'ostativa l'atteggiamento ostativo che pongono di fronte a tutto ciò i servi volontari di Matrix sono il primo a pormi con un certo atteggiamento però insomma non sono il primo a dire a certe cose per cui insomma fatto quello fatto ciò che ho fatto con il primo libro ho deciso di proseguire con la ricerca e come detto abbiamo formato numerosi gruppi di ricerca con Pasquale Villale e le sue ipnosi con Giuseppe Mangini che ha continuato le sue con Aldo Bergamaschi che ne ha già fatte 3500 con Lorena Laurenti che fa i suoi lavori dal punto di vista olistico Rosala Falappa Iside Suberati Emiliano Moroni ora non vorrei dimenticare nessuno perché veramente hanno contribuito a questo libro tante persone sapete perché? perché se io avessi scritto un monologo sarebbe semplicemente la mia esperienza se io vi dicessi quello che ho visto io in ipnosi quello che mi hanno detto a me in 100.000 perché ne ho fatti veramente tanti io di lavori su di me e tra l'altro negli ultimi due mesi ne ho fatti tantissimi perché da quando mi sono messo diciamo in mostra non fanno altro che scrivermi operatori olistici di vari generi per studiarmi perché sono interessati un po' al mio carattere la mia natura la mia personalità e a ciò che sto facendo e quindi si fanno determinati tipi di lavori e ciò che emerge in maniera lo posso dire perché abbiamo incrociato molti dati che io mi sia preparato a lungo prima di venire sulla terra proprio per fare questo ed emerge che io abbia come dire una specie di forza ulteriore rispetto a tante altre persone che mi permette di fare questo e che mi sono scelto la data, il giorno, l'ora e la caratteristica di personalità che ho per fare questo e per poter affrontare anche tutto ciò che vuol dire fare questo perché io sono stato attaccato da migliaia di persone mi hanno minacciato mi hanno offeso mi hanno bannato un profilo mi hanno fatto di tutti i colori eppure mi viene da ridere perché non mi avete neanche scalfito dovreste rendervi conto che forse con me non funziona quello che voi cercate di fare e quindi non posso fare altro che aderire alla mia missione aderire a ciò che io voglio fare è da smantellare tutto quello che c'è da smantellare corraggere quello che c'è da smantellare e far evadere da qua dentro quante più scintille di linee possibile e questo può essere fatto non con un monologo dico la mia e basta no portando tante persone che dicono queste cose che rilevano queste cose persone serie competenti che sono facilmente contattabili con le quali chiunque può mettersi in contatto per andare a rilevare queste cose al fine di zittire di zittire chi ha ancora qualcosa da dire non sta prendendo il suo piccone e sta dando delle mazzate contro il muro perché abbiamo visto la crepa e dobbiamo farla crollare e nel 2024 appunto tutto questo avverrà sicuramente perché ho messo insieme veramente un lavoro importante sono 400 pagine questo libro di mie ricerche di mie cose della mia veduta e di tanti ricercatori che hanno portato la loro esperienza conoscenza testimonianza al fine di rendere le cose chiare il più chiare possibili a quante più persone possibili e questo e questo verrà fatto perché insomma non c'è nessun altro tempo da perdere dobbiamo assolutamente porre rimedio a quello a cui si può porre rimedio e il rasto dimenticarcelo dimenticarcelo con amarezza perché non ha veramente nessun valore insomma il primo capitolo di questo libro è le mie risposte a Rudolf Steiner ho preso dei suoi spezzoni di libri di conferenze in cui parla del grande architetto del sublime architetto prendo ciò che dice lui e gli rispondo secondo quello che è veramente sia il Dio della Bibbia al quale è dedicato un intero capitolo alle sue malefatte sia che cos'è il Demiurgo perché il Demiurgo non è certamente il Dio perfetto è semplicemente l'architetto di questa matrix che naturalmente l'ha fatta molto bella è molto capace non è mica uno scemo però non è certamente il nostro Dio il nostro Dio quello vero il nostro vero Dio padre la fonte non avrebbe mai pensato a una catena alimentare come quale coinciamo e non farebbe soffrire milioni miliardi di suoi figli nelle pestilenze nelle carestie nella fame nella miseria tutto ciò è solamente il parto di un Dio corrotto un Demiurgo corrotto che Steiner definì il sublime architetto e poi anche le sue dichiarazioni rispetto alle gerarchie spirituali che abbiamo fatto anche un video su questo alle gerarchie spirituali che emergono sempre con maggiore chiarezza in tutti i rilevamenti che facciamo non essere nient'altro che predatori travestiti che facendosi passare per esseri di luce predano e drenano l'energia umana con tutti i loro manipolativi sistemi ho messo l'articolo di Cameron Gray sul Demiurgo corrotto e la New Age poi naturalmente a tutto questo aggiungo sempre la mia visione il frutto delle mie ricerche della mia esperienza e la mia esperienza e tutto questo rimarrà sempre marginale le ipnosi che ho fatto su di me i rilevamenti che faccio su di me ciò che ho visto sin da ragazzino tutti gli attacchi che io ho subito dagli arconti tutto quello che ho dovuto passare superare per essere continuamente attaccato dagli arconti sin da quando ero bambino e tutte le cose che faccio insomma con le persone perché aiuto molte persone a venire fuori da certe situazioni con gli strumenti che fornisco nei corsi di Transurfing che naturalmente non sono solamente le tecniche del Transurfing ma anche decreti protezioni e altre cose non tanto invasive come le ipnosi o altri sistemi però insomma si rilevano continuamente determinate caratteristiche nella previazione umana insomma quando le persone cominciano a fare i decreti dopo vengono in qualche modo bastonate e lì allora interviene il fatto che bisogna proteggersi schermarsi ancora meglio insomma bisogna aiutare tutte queste persone insomma qua parlo dell'articolo di Cameron Gray poi interviene Emiliano Moroni con due suoi bei articoli sulla falsa luce della New Age sulle costellazioni familiari poi ci sono tutti i rilevamenti le domande che abbiamo fatto con Lorena Laurenti poi c'è il contributo scritto di Lorena Laurenti il contributo di Iside Suberati il contributo di Rosalla Falappa il contributo di Cuore di Anime che ho fatto una cosa anche con loro c'è uno scritto anche di Cuore di Anime c'è uno scritto di Pasquale Villella lo scritto di Giuseppe Mangini che hanno fatto come detto tantissime ipnosi dove rilevano tutto ciò di cui parliamo della trappola della reincarnazione del falso karma delle false schiere angeliche del vecchio con la barba che costringe a reincarnare ci sono dei bei spezzoni alcuni commentati da me della quinta intervista al dottor De Nuda che reputo del massimo interesse la sua intervista soprattutto la quinta perché lui dice le stesse cose che dico io insomma a cui sono arrivato io e non si arriva per caso alle stesse conclusioni quindi reputo del massimo interesse ciò che lui ci dice e poi sto scorrendo un po' per vedere sono veramente tante cose sono 400 pagine e quindi naturalmente c'è una c'è una d'avanzo ah sì poi ci sono i registri akashici che abbiamo interrogato con Monica Monica Blu che lei è molto brava ad andare nei registri siamo riusciti ad ottenere veramente delle informazioni molto molto importanti molto interessanti c'è un un dibattito un dialogo veramente avvincente tra lei e i registri akashici e insomma ci dicono molte cose ce le dicono se si riesce ad andare con un certo grado di consapevolezza facendo le domande giuste anche se i registri akashici sono intelligenza artificiale che obbedisce comunque a un programma dimiurgico si riescono a recepire molte informazioni e questo è molto rilevante poi c'è il tunnel di luce visto in astrale ci sono questi ho fatto un video già su di loro questi viaggiatori astrali che già nel 2012 rilevarono il tunnel di luce tutte le trappole e metto il loro racconto alcuni dei nostri dialoghi ulteriori perché io sto continuando a parlare con loro ed è mai che sono sempre cose molto molto interessanti gli orfici c'è la faccenda degli orfici su cui ho fatto un video è tutto scritto di come gli orfici si preparavano per non farsi resettare la memoria e per riuscirsi in qualche modo a destreggiare nell'aldilà ed è un articolo molto molto interessante questo qua poi c'è il contributo di Cina Brozadi che è uno che si è occupato di sciamanesimo megalitico leggo adesso stesso autore di Tassi Esoterici dello sciamanismo megalitico tratti dalla sua stessa esperienza insegnati di meditazione sciamanica guaritori spirituali della tradizione megalitica insomma è uno che ne sa veramente molto e ci parla del tunnel di luce ci parla di questa sapienza esoterica rispetto al tunnel di luce alla trappola della reincarnazione al reso della memoria e di tutto quello che accade ecco poi c'è l'articolo di Wes Paner uscire dalla griglia anche questo è molto interessante naturalmente questo è un articolo famoso che io riporto perché non tutti ne sono a conoscenza e anche per dare al lettore quante più informazioni possibili perché bisogna che il lettore si metta in condizione di avere tutto ciò che in questo momento possediamo per avere la più generale visione del problema possibile e capire che siamo di fronte a un problema che finalmente stiamo risolvendo poi c'è il capitolo appunto sul dio della bibbia Yahweh tutte le sue malefatte molto interessante quante ne ha fatte Yahweh ragazzi mamma mia e questo è stato confuso per il vero dio per lunghi secoli questo qua è un problema importante da risolvere una volta per tutte poi c'è la visione di M24 che è un gruppo gnostico che si occupa della correzione dello spirito che danno un sacco di informazioni tante tante informazioni sia sulla prigione di Matrix che sulla predazione Arconte che come proteggersi che come tante tante informazioni veramente sono articoli molto interessanti che ho messo insieme per portare la loro visione a coloro che non la conoscono c'è l'articolo sui sicari del karma di Cameron Day molto molto interessante falso karma che ci affibiano al karma ora io non è che voglio parlare di ogni argomento perché voglio presentare il libro ma sono tutti argomenti di cui trattiamo spesso e volentieri nei miei video nelle interviste ed è tutto spiegato in maniera molto molto lineare concreta che le persone si possono rendere conto di queste cose qua e poi c'è un mio intero capitolo in una combination con David Icke perché mi sono reso conto che io e David Icke diciamo le stesse cose con gli stessi termini e quindi io ho saputo del suo libro dopo aver scritto il mio è stato passato e ho visto che dice le stesse cose che dico io con altri termini e dunque ho preso un po' delle cose che dice lui ho aggiunto le cose che dico io ho scritto le cose che dico io le ho mischiate insieme e praticamente non si capisce chi ha scritto cose se io o lui talmente parliamo la stessa lingua e quindi mi sono divertito a fare una collaborazione di questo tipo abbiamo un amico in comune che ci sta cercando di mettere in contatto ora David Icke appena morta la figlia quindi poi lui ha problemi ad entrare in Europa non può venire a fare conferenze ci sono tanti problemi però insomma questo sono riuscito a farlo e sarà molto è stato molto divertente per me perché io ammiro David Icke sin da quando ero bambino e riuscire a fare una cosa di questo genere per me è molto molto bello per me David Icke è un fratello maggiore quindi è uno che mi ha insegnato tanto soprattutto mi ha insegnato come andare avanti come un caterpillar fregandosene completamente delle critiche fregandosene completamente di cosa dire gli altri certo naturalmente a tutti va risposto per le rime anche perché io non sono un maestro spirituale non sono un guru io sono uno così che è nato nel deserto sono un fiore di fuoco nato nel deserto vi rispondo per quello che siete vi metto di fronte a quello che siete perché reputo che sia giusto così penso che a ognuno vada dato ciò che si merita ecco quindi quando ho tempo quando voglia io rispondo a tutti e quindi insomma questa cosa qua di David Icke la reputo molto interessante io credo che David Icke sia veramente uno dei nostri ci sono molte persone che lo criticano io non riesco a comprendere come si possa criticare uno che ha passato il calvario che ha passato non si può aprire un porfilo nei social non può entrare in Europa a fare una conferenza ha detto più volte che si è schermato non ha dato l'accesso a nessuno a fargli più male di così che è quello che sto facendo anche io infatti non mi potete fare niente anzi tutte le persone che mi stanno mandando cose contro vi tornerà triplicato per tre quindi io tra l'altro nella mia vita ho avuto tanti nemici perché io ho fatto tante tante diverse cose e non ho mai visto un mio nemico finire bene ecco non ho mai visto un mio nemico fare una buona fine quindi vi consiglierai di prendere un'altra strada il mondo è grande prendete un'altra strada non mi venite addosso perché vi schiantate e quindi poi c'è anche Mauro Biglino Mauro Biglino è un'altra delle persone che ammiro tanto naturalmente ne ammiro tante però Mauro Biglino non è una questione perché lui è andato anche lui parlando di cose andando contro dei dogma andando contro delle credenze radicate gliene hanno dette fatte di tutti i colori e lui è andato dritto per la sua strada naturalmente lui si occupa di un problema di un problema materiale fisico che naturalmente anche io riconosco come tale sono d'accordo con lui ha dato tanto all'umanità e non si occupa di queste cose facendo un po' più metafisiche un po' più spirituali esoteriche però ognuno il suo ognuno è giusto che faccia il suo Biglino ha fatto così tanto che secondo me è uno dei più grandi ricercatori dell'intera della storia umana e va dato a Biglino ciò che è di Biglino Biglino è un grande per me è un esempio per me è un maestro non è che a tante persone non piace sentirsi chiamare maestri però io a chi lo reputo un mio maestro come David Icke come Biglino come certi altri quando è il momento di dire adare a Cesare ciò che è di Cesare io lo faccio perché ho rispetto del lavoro altrui e soprattutto dell'influenza che hanno avuto su di me determinati personaggi per cui io faccio come loro dritto avanti non con la pace ma con la spada al fine di mettere le cose al loro posto al fine di mettere veramente le loro cose al loro posto e poi va bene ci sono altre cose altri capitoli sulla mia visione agnostica su tante tante altre cose ora naturalmente non mi voglio dilungare troppo e poi c'è un lungo capitolo delle testimonianze delle persone perché mi hanno scritto centinaia e centinaia di persone riferendomi la loro testimonianza in premorte in astrale testimonianza nella vita ordinaria testimonianza di ricordi testimonianza in ipnosi testimonianza con vari strumenti eccetera e insomma chiunque sta portando un tassallo per risolvere questo puzzle è benvenuto coloro che hanno portato il tassallo sono nel libro al fine di dare una completezza e un quadro generale il più completo possibile una completezza più completa possibile al fine appunto di dare al lettore una visione d'insieme chiara netta tutto è scritto in parole comprensibili perché a me piace parlare così di modo tale che le persone si rendano veramente conto di dove siamo a fare che cosa e poi ognuno prende la sua decisione noi siamo liberi di decidere quando siamo sappiamo di fronte a che cosa siamo io non ti posso mettere di fronte a una scelta se tu non sai neanche di che cosa si tratta il potere personale la forza dell'anima non deve essere sprecata una nuova vita non deve iniziare da zero questo è un errore un difetto del creato sta a voi rassegnarvi e vivere con questo errore oppure no ma a chi servireste in questo stato di creature così difettose persino io non ne avrei bisogno sta a voi reclamare ciò che vi appartiene di diritto come fare questo è abbastanza semplice chi rivendica il diritto lo ottiene dunque dovreste letteralmente proclamare una dichiarazione dichiaro il mio diritto di riprendermi indietro il mio potere acquisisco la forza di tutte le mie incarnazioni questo è un passaggio del libro di Zeland naturalmente lui non si occupa di queste cose ma questo breve passaggio di cui ho parlato già nel libro della trecina del transurfing è molto significativo il fatto che noi non abbiamo la memoria delle nostre incarnazioni passate della nostra vita passata se non in certi casi perché qualcuno effettivamente ricorda circa lo 0,3% dell'umanità cioè praticamente nessuno è un errore un difetto del creato un difetto del demiurgo corrotto e non del sublime architetto del demiurgo corrotto per cui noi dobbiamo correggere questa situazione ci sono degli strumenti ho scritto degli altri decreti ho scritto delle altre cose di come secondo me comportarsi nella vita attuare il transurfing attuare tante conoscenze che abbiamo parlerò nella quinta via che sarà un libro un po' più filosofico certamente concreto di applicazione e di efficacia però un po' più filosofico non una vera e propria ricerca così settoriale di concetti di temi di come si chiamano queste cose qua di informazioni che che servono per comprendere una città ma più che altro proprio di una filosofia di vita la quinta via sarà più un libro del genere però questo libro qua è un libro di di conoscenza un libro di sapienza un libro sapienziale per sapere dove siamo a fare che cosa nelle mani di chi sottraiamoci alle mani di chi ci ha tenuto prigioniero sottraiamoci alle mani di chi ci rende schiavo riprendiamoci il potere perché è venuto il momento cari amici miei verrà un giorno verrà un giorno che l'uomo si sveglierà dall'oblio e finalmente comprenderà chi è veramente e chi ha ceduto le redini della sua esistenza ha una mente fallace menzognera che lo rende e lo tiene schiavo l'uomo non ha limiti e quando un giorno se ne renderà conto sarà libero anche qui in questo mondo il grande Giordano Bruno fece una profezia che si sta avverando nei giorni nostri verrà il giorno che l'uomo si sveglierà dall'oblio e finalmente comprenderemo a chi abbiamo ceduto le redini della nostra esistenza a una mente fallace menzognera che ci ha reso e tenuti schiavi è ora di finirla con questa storia è l'ora di riprenderci il nostro potere il 2024 sarà l'anno in cui demoliremo tutto quanto naturalmente le ricerche dopo questo libro proseguono stiamo già cercando dei candidati con Aldo Bergamaschi per andare a sondare con le sue ipnosi che cosa cazzo c'è nell'aldilà naturalmente andare a verificare tutto ciò che emerge è così cos'altro c'è da poter scoprire andiamo avanti chi si mette davanti verrà travolto chi cerca di osteggiare tutto questo farà una pessima fine e chi si vuole salverà si salverà perché si può salvare chi si vuole salvare e naturalmente ora è venuto il momento che lo faremo lo faremo ne sono ne sono convinto perché quando inizia tutto questo non avrei mai avuto idea che si sarebbe prodotto tutto questo tutto questo mulinello energetico intorno alla questione naturalmente quando io capì di questo problema capì che andavo a prendere il tassallo centrale del grande puzzle e colpendo quello sarebbe venuto giù tutto e così sta avvenendo così avverrà è bene cari amici spero di aver descritto di che cosa parla questo libro in maniera comprensibile sono quasi 400 pagine l'offerta lancio del libro è a offerta libera naturalmente molte persone l'hanno già pagato una sciocchezza per cui credo che sia giusto che le prossime persone che lo vorranno per quanto riguarda i prossimi tempi fino a che non cambierò idea perché decido tutto io come vanno le cose perché ho deciso che le mie cose nella mia vita devono andare come decido io per cui quando decido di fare una promozione la faccio quando decido di fare un'altra ne faccio un'altra per ora ho deciso che il libro sarà offerta libera se voi avete un sacco di soldi e pensate che questo libro valga un sacco di soldi siete liberissimi di mandarmi un milione di euro non mi offenderò se invece avete due euro che vi sono avanzate dalla colazione ve lo darò lo stesso tutto ciò che voi potrete dare in cambio di questo libro naturalmente poi scarso termini di ragionevolezza il valore che secondo voi può avere quello che potete quello che vi sembra giusto quello che sia sia quello che darete sarà sufficiente per avere questo libro fino a che non cambierò idea non so quando però prima o poi cambierò idea però finché reputerò giusto fare così farò così perché voglio che più gente possibile voglio che più gente possibile lo abbia per le mani e pertanto mi sento di chiuderla così questo video questa breve conferenza dal deserto del Sahara mi scuso perché certe volte io quando parlo divento un po' serio perché mi rendo conto che sono argomenti seri che vanno tradati con serietà però in generale io la prendo così come adesso ora finirò tutto questo vi faccio vedere vi faccio vedere anche un po' dietro le quinte dove sono mi sono messo qua dietro un pannello solare per avere un po' di ombra con il mio bel tavolino la mia acqua seduto lì c'è la mia ragazza che si prende il sole e terminato tutto questo sbaraccherò il mio il mio tavolo della conferenza e andrò a proseguire il libro in camper fino a che non sarà terminato perché lo devo finire ancora sono sincero volevo fare questo video da qua perché è molto figo la maggior parte del libro l'ho scritta qua però lo finirò stasera o domani e già che ci sono vi faccio un po' vedere va bene ragazzi vi ringrazio tanto per tutto l'affetto che mi state mandando per tutti i messaggi di stima di apprezzamento io vi ricordo che io non lo faccio per questo più che altro a me non me ne frega niente di essere apprezzato o no a me interessa che le cose le capiate perché solo insieme potremo produrre veramente una crepa una demolizione significativa e quindi mi piace molto insomma che ci sia intorno a tutto questo molta gente della mia stessa intenzione della mia stessa pasta perché altrimenti da solo non è che io potrei fare tutto questo da solo e questo libro lo dimostra siamo in tanti ci siamo resi conto ci siamo rotti i coglioni e vogliamo cambiare un po' le cose prendere in mano la situazione della nostra vita per cui vi ringrazio veramente di cuore veramente vi ringrazio di cuore vi auguro un buon anno vi auguro una felice dimolizione vi ricordo che la demolizione è un atto di gioia è un atto di festa dobbiamo prenderla veramente come un gioco un divertimento perché tanto noi di qua ce ne andiamo e finché siamo qua divertiamoci giochiamoci con tutto questo e cerchiamo di non venirne sopraffatti perché sennò diventa un casino bisogna essere leggeri non farsi sopraffare tutto questo ve lo dico io che potrei essere facilmente sopraffatto perché a me mi arrivano in continuazione decine e decine di messaggi all'ora ogni giorno due trecento messaggi al giorno tra un social e l'altro poi tutti i commenti tutte le cose uno può veramente venire travolto da tutto questo però io ho imparato proprio a non interessarmi a tutto questo a tutto quello che mi dice la gente a tutto quello che mi scrivono perché non non è questo quello che voglio io quello che voglio è far crollare matrix e quindi dritto per questa strada se siete della mia stessa pasta della mia stessa indole lo facciamo insieme altrimenti ci mandiamo a fanculo e ognuno per la sua strada capite va bene dai un vero abbraccio di cuore spero che il libro vi piacerà e ora che torno in Europa continueremo con le interviste continuerò con i video continueremo con le ricerche continueremo con tante cose e quindi avanti tutta avanti tutta perché il 2024 veramente porterà porterà significativi cambiamenti nella situazione delle nostre vite sicuramente vi voglio bene ciao ragazzi